L'appuntamento è dal 4 al 12 marzo, ma l'orizzonte è triennale perché è impostato su tre anni il percorso di collaborazione tra Expo Casa, l'esposizione organizzata da Epta Confcommercio a Umbria Fiere di Bastia Umbra e l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. È orgoglioso nell'annunciare la partnership il presidente di Epta, Aldo Amoni. Dopo così tanti anni, spiega, c'è necessità di innovare per farne un evento di accresciuta importanza, punto di riferimento per l'Italia centrale. È sempre stato un bel evento, un grande evento, però bisogna cominciare a dargli una secondo mese. Se ci riusciamo, il mio pensiero era di dargli un aspetto diverso, un'importanza ancora maggiore, farlo diventare un evento sulla casa che prenda un maggior territorio a livello fuori dalle mura umbre Expo Casa dunque guarda al futuro di arredo, costruzione e ristrutturazione in partnership con l'Accademia di Belle Arti. Open Minds è il nome del progetto triennale, a partire da quest'anno dallo slogan Verso nuovi mondi dell'abitare. I visitatori, il target vuole aprire ai giovani e alle persone di cultura si troveranno così di fronte a un'imponente porta d'ingresso progettata dall'architetto Pietro Carlo Pellegrini e poi installazioni anche a livello stradale, mostre, performance ed eventi. Il concetto è molto semplice, noi abbiamo dato una spallata, visto che siamo di gubbio, a cambiare decisamente questa iniziativa di Expo Casa. Abbiamo cercato di farlo, come dice lo slogan, rompendo i muri. Rompendo i muri fra le discipline, perché non si parlerà soltanto di architettura e ingegneria, ma si parlerà anche di filosofia, di antropologia e di arte. Ma soprattutto rompendo i muri della casa. La casa oggi non è più quella cosa lì che tutti conosciamo, la casa oggi è qualcosa di più, è l'intero pianeta, che è il nostro pianeta, la nostra casa. La casa oggi è anche un centro di accoglienza, è anche una casa su un albero, è anche un riparo eremitico per pensare e per disegnare. Questo non si tratta soltanto di creare nuovi mercati, ma si tratta di dare risposte all'uomo del terzo millennio, che forse è cambiato. Un'occasione per gli amanti del design, ma anche per curiosi e professionisti del settore. Fra le novità di questa edizione c'è Piazza Tecla, un'area riservata a eventi e incontri culturali di eccezione, che metterà in evidenza le potenzialità delle costruzioni in legno, che in Umbria hanno la propria ragione d'essere. Tecla, costruendo, applicando l'ingegneria alle costruzioni in legno, sostanzialmente vive una frontiera. E l'esperienza intellettuale che quest'anno vuol vivere, l'esperienza della fiera di Bastia, è anche questa un'esperienza intellettuale, perché vuol parlare linguaggi nuovi. E quindi Tecla, in questi contesti abbastanza rischiosi, comunque si trova bene a fare imprese. Expo Casa è da sempre uno dei fiori all'occhiello di Umbria Fiere, ha detto il presidente Lazzaro Bogliari. La nostra struttura, con bilanci inutili e forti dei 17 eventi ospitati ogni anno, punta con forza alla dimensione extra-regionale, forte della posizione al centro del sistema.